È difficile comprendere la gratuità della salvezza in Gesù Cristo, sovente preferiamo non entrare in questo mistero seguendo la salvezza nello stile. Così Papa Francesco ha la messa celebrata nella cappella della Casa Santa Marta, mettendo in guardia dai dottori della legge che accorciano gli orizzonti di Dio e rendono piccolo il suo amore. Soltanto amando il Signore e il prossimo, ha chiarito il Pontefice, siamo all'altezza della gratuità della salvezza, senza cedere alla tentazione del controllo. L'amore più grande è questo, amare Dio con tutta la vita, con tutto il cuore, con tutta la forza e al prossimo con te stesso. Perché è l'unico comandamento che è all'altezza della gratuità della salvezza di Dio. E poi aggiunge Gesù, in questo comandamento ci sono tutti gli altri, perché quello che ama fa tutto il bene. Tutti gli altri. Ma la fonte è l'amore, l'orizzonte è l'amore. Se tu hai chiuso la porta e hai portato via la chiave dell'amore, non sarai all'altezza della gratuità della salvezza che hai ricevuto. Questa lotta per il controllo della salvezza, soltanto si salvano questi, questi che fanno queste cose. Non è finita con Gesù e con Paolo. Grazie. 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 Grazie.